Senatore, Vicepresidente del Senato, Ignazio Larussa, domani a Ventimiglia ci sarebbe stata una messa dedicata a Benito Mussolini, però dopo le proteste sollevate dall'Ampi il Vescovo ha deciso di stopparla perché ha detto il suffragio non si nega a nessuno, ma non bisogna strumentalizzare le funzioni religiose. Un commento? Non conosco il Vescovo, non so chi ha organizzato la messa, ma non so come una messa possa essere strumento di polemica. Una messa è solo un ricordo religioso di una persona che non c'è più e credo che la religione cristiana non preveda divieti di questo tipo.